Grazie a tutti. Allora, ascoltiamo il commento in questa breve lezione preziosissima che tu ogni settimana ci doni. La parola di Dio riporta la vicenda storica del popolo di Israele. Sì, ricordiamo innanzitutto alle nostre amiche e ai nostri amici che noi parliamo di ciclo, perché l'anno liturgico è uno solo, che noi viviamo in tre cicli. Il ciclo A leggiamo Matteo, il ciclo B leggiamo Marco, il ciclo C abbiamo letto quest'anno Luca, perché l'anno liturgico, per dirle in parole più povere, è Cristo stesso. E l'anno liturgico è una sorta di scala chiocciola, per cui anche tre anni fa abbiamo letto il ciclo C e l'abbiamo meditato, ma si spera che questa scala chiocciola salga su quell'asse verticale che è Cristo. E noi nella storia dobbiamo salire attratti da lui. Quindi è bello questa ciclicità dei tre anni che si susseguono, ma è una ciclicità che è progressiva e verso l'alto. E i Vangeli, come dicevamo domenica scorsa, quando arriviamo direi al termine più che alla fine, la fine ci ricorda sempre qualcosa di negativo, la fine di ogni cosa, invece noi arriviamo al termine e abbiamo il famoso capitolo 21, che è chiamato il cosiddetto discorso escatologico. Parola difficile, ma che vuole dire sulle realtà ultime. È una sorta di rivelazione. La parola greca sarebbe Apocalisse. Che cos'è l'Apocalisse? È una rivelazione che non solo riguarda noi, come abbiamo visto domenica scorsa sul fatto della resurrezione, nella discussione con i Sadducei e i Farisei, ma riguarda anche la storia. Perché la rivelazione ebraico-cristiana è una rivelazione nella storia. Noi amiamo questo tempo, perché nella storia Dio si continua a rivelare. Questa storia corre verso un compimento. Quindi sia noi, creature di Dio, sia questa storia corre verso un compimento. Vengono descritti con un linguaggio abbastanza diverso dal nostro, un linguaggio a cui noi non siamo abituati, è un linguaggio escatologico, per cui non è quello il linguaggio che dobbiamo stare attenti, non è quello il messaggio. Il linguaggio che Gesù usa, che era usato per quell'epoca, è soltanto il mezzo espressivo che tenta di comunicare qualcosa che a noi sembra strano e misterioso. Che vuole dirci in realtà il Signore con questo Vangelo? Gesù ci svela il senso profondo della realtà presente, per aiutarci a togliere quel velo, quelle paure, quelle fragilità che sono davanti ai nostri occhi. Insomma, Gesù vuole farci entrare nel profondo degli eventi. Ecco perché la parola di Dio è così importante. Una parola di Dio sul mondo, ma che è una parola, come domenica scorsa, di speranza, di vita. E noi ogni anno ci imbattiamo in questo linguaggio che sembra, ripeto, astruso, aspro, ha delle tinti forti, a volte anche paradossali, cioè oltre la nostra logica, ma che vuole realizzare un messaggio. Dio sta attuando nella storia una trasformazione che è radicale ed è definitiva. Per cui questo discorso rivelativo o apocalittico nasce da questa convinzione che la storia sta camminando sotto la guida di Dio verso una salvezza portata a compimento, salvezza piena, definitiva. Per cui le delusioni e le contraddizioni della storia non devono demolire questa speranza, anzi, devono servirci a purificarci. Le difficoltà, gli attraversamenti anche difficili della vita, devono insegnare che la salvezza è al di là dell'esistenza presente. E che già Dio opera in questa storia e vuole la collaborazione dell'uomo. Per cui i cristiani sono coinvolti in questo discorso. Allora le persecuzioni, gli odi del mondo, non devono fare altro che rinnovare la nostra fiducia nella promessa di Dio. Davanti all'odio, qualche settimana fa abbiamo sentito quella sopravvissuta, una sorella ebrea sopravvissuta ad Auschwitz, la segre, la senatrice segre, che diceva davanti all'odio, alle persecuzioni, c'è una sola realtà che può vincere, è l'amore. E ha ragione, lei che è una delle poche che ha rivarcato quel cancello dei terribili lager nazisti. E' l'amore, è il discorso davvero dell'Antico Testamento e anche di Gesù. Ecco perché questo discorso è un intreccio di notizie, di avvertimenti. Ci saranno falsi profeti che pretendono di parlare al nome di Gesù. Ci sono guerre, rivoluzioni, popoli contro altri popoli. E' la realtà che noi viviamo ogni giorno. Eresie, guerre, persecuzioni, odi, massacri di bambini innocenti. E' una storia che ha un travaglio incredibile, purtroppo dovuto all'odio dell'uomo. E questi avvertimenti di Gesù, non lasciatevi ingannare, non vi terrorizzate, non preparate prima la vostra difesa. Noi dobbiamo avere fiducia che lo Spirito ci aiuta. Per cui è interessante che anche le persecuzioni, le divisioni, l'odio del mondo, non sono segnali di una immediata fine del mondo, ma sono occasioni per dare testimonianza, per essere perseveranti nel bene. Gesù ci chiede di non deflettere da quello che è la nostra vita. Per cui dobbiamo assolutamente procedere verso il fine. E' che io qui non userei, lo dico sempre, l'articolo femminile, ma l'articolo maschile. Non la fine, ma il fine. Mentre il mondo vecchio muore, da quel chicco di grano caduto in terra, aperto, nasce la pianta. Per cui questa realtà deve incidere nella nostra storia, nel nostro quotidiano. E Gesù chiarisce che questa meta, che è davanti ai nostri occhi, incide sulla vita di ogni giorno, anche se i nostri occhi vedono realtà pieni di violenza, di chiusura, di contraddizione. Dio sta costruendo il suo disegno di amore e ci chiede di non deflettere da questa condizione. Siamo chiamati a vivere da discepoli. Fino a quando? Gesù non ce lo dice. L'importante è perseverare nel bene, perché questo chicco di grano possa spaccarsi e germogliare la nuova vita che Dio ha messo dentro di noi. Che cosa vuole fare Gesù con questo Vangelo? È esattamente il contrario di quello che uno può pensare ascoltandolo. Vuole toglierci le ansie, gli allarmismi di tanti sciagurati profeti di sventura. Vuole farci vincere la paura che ci blocca, l'egoismo imperante ormai nella nostra società e nelle famiglie. Il Signore vuole farci guidare da quella fede fiducia che è un atteggiamento di dono e di amore, che vince anche la morte. Per questo Gesù ci dice state attenti anche ai falsi Messia. Ce ne sono stati tanti nella storia. E soprattutto vuole metterci in guardia dal fatto che ci saranno tradimenti, invidie, gelosie. Forse anche nelle nostre comunità siamo invidiosi della persona che fa il nostro stesso lavoro o di chi ci sta vicino. Come facciamo fatica a riconoscere nel fratello noi stessi. Ma Gesù ci dà una sicurezza, nemmeno un capello del vostro capo perirà. Per cui è interessante questa speranza che accende dentro di noi. La fede cristiana dunque, come ha proclamato domenica scorsa la resurrezione del corpo, lo fa attraverso e in mezzo alla persecuzione. Per cui non dobbiamo temere tutto quello che sta avvenendo. Ma come dice Gesù, con la vostra perseveranza o con la perseveranza, la iupomone, guadagnate le vostre vite. Gesù chiude proprio questo testo invitandoci ad avere pazienza. La iupomone è pazienza, è costanza nella perseveranza. E quello che ha avuto il Samaritano è stato costante in quell'aiuto. Perché chi vuole salvare la propria vita la perde. Ma chi spende la propria vita per gli altri, per Cristo, la ritrova. Ecco, il vero credente sa che gli viene chiesta la vita. E che questa salvezza sta maturando dentro di noi. Ma noi dobbiamo vivere per qualcosa di grande. E l'unica realtà più grande è l'amore. Ecco perché dobbiamo vivere in Lui e per Lui, diceva il domenica scorsa. Perché Lui è il nostro paradiso, il nostro giardino. Lui è davvero la casa in cui possiamo abitare senza nessuna paura. E allora, cari amiche e cari amici, questo Vangelo oggi ci ricorda una speranza certa. Chi persevera fino alla fine nell'amore sarà ricompensato con quella vita nuova che il Signore domenica scorsa ci ha dato. E' questo anche l'augurio che io faccio a ognuno di voi. E noi ti ringraziamo. Sicuramente è capitato di tutto nella storia dell'umanità e continuerà a capitare di tutto. Ma l'ultima parola è proprio quella del Vangelo di oggi che dà senso a ciò che accade. Io faccio sempre un esempio, Anna Maria. Nella vita siamo come in una grandissima autostrada che poi entra in delle gallerie. E noi sappiamo quando andiamo in autostrada che è importante incanalarsi. A un certo punto c'è il casello, no? E beh, chi c'è il telepass deve andare nella casella sua, chi deve pagare il biglietto nella sua. Dobbiamo stare attenti in questo al di qua, in questa storia, a cercare la pista giusta. Perché quando avremo attraversato quel cancello, quel casello che è la morte, noi ritroveremo la stessa corsia. Ecco perché le scelte nella storia di oggi incidono anche nel domani. E quello che io penso del domani nell'aldilà incide nell'aldiquà. Era la lezione che abbiamo commentato con la parabola di Lazzaro e di quel ricco che continua a voler dominare sugli altri. l'importante nella vita è spendersi per una causa più grande. E l'unica causa grande è l'amore. Grazie, questa immagine è molto forte, rende bene l'idea. Noi ci ritroviamo la settimana prossima nella Domenica del Cristo Re. E allora io vi dico buona scelta della corsia, che che sia la corsia di vita. Grazie, ricambiamo. Grazie, shalom.